Come si tratta di un bue e un bue? Come si tratta di un bue che è importante per il pastore, scompare, non c'è più. A quel punto è necessario cercare. Questo è il primo di queste figure. NANIKA KU ZIBUN GAH HONTOU DEWA NAY NANIKA TAYSETZNA MUNO GAH ZIBUN NI KAKKETE ILU TO SOYU KOTO NI KIKATUITE DO SHIRAI NO KA SOYU MOTOMERU SOYU TOI NO TACHIBA DESU Questa prima figura che mostra il cercare, la ricerca del bue lo possiamo vedere nella esperienza concreta, quotidiana di tutti i giorni nella domanda che ci poniamo, ci si pone quando ci accorgiamo che qualche cosa non va che noi abbiamo perso qualcosa di importante che il nostro io non è reale, non è vero, non è autentico e questo primo dipinto sta a indicare proprio questo ricercare, questa domanda e il vero se comincia laddove c'è una domanda rivolta a se stessi, è una domanda che ci interpella, che ci mette in, che ci mette a disagio anche e sicuramente e tuttavia nonostante il fatto che si cerchi disperatamente anche questa risposta non si sa dove sbattere la testa non sappiamo dove andare non sappiamo cosa fare e quindi non è solo una domanda intellettuale ma è una domanda che poi arriva addirittura alla disperazione quindi questa figura indica ritrae il momento della domanda che può arrivare a includere anche la disperazione e una disperazione che può durare un anno, cinque anni, dieci anni non si sa quanto possa durare e nonostante questa disperazione continuando a cercare continuando a desiderare la domanda si passa alla seconda grazie a tutti grazie a tutti